In segreto, in quanti se lo ricordano? In un bel po', sapete? Comunque, sono qui per fare un attimo una riscoperta di in segreto, sapete? Si fanno di tanto. Dopo anni, dopo video famosissimi come quelli di Top Secret di McShowsha o altri che sono famosissimi, che vengono ricordati, andiamo a vedere cosa si sono in segreto in questi anni. Clicchiamolo. Vediamo subito che è... Boh, c'è stato a tutti. Vediamo subito che è leggermente cambiato stile, come è fatto. Mettiamo la pubblica, cioè, scorriamo a caso, cioè... Faccio una spesa di una squadra di super elementare, c'è una bambina che non dà mai segni di amicizia, non batte mai in cinque nel pugno, non è tipatica, anzi molto educata. Fatica, gioco con gli altri, ma ad esempio quando vincere non accende nemmeno il risultato, l'abbiamo riportata a verifica, in cui non abbiamo preso il massimo, è semplicemente detto, grazie. Ma che cazzo di segreto è? Dove sta il segreto? Credo fossi ben naturalmente, perché non lo so, e non vedendo, ma la richiesta nera ha detto che... Ma che cazzo di segreti sono? Ok, questo qua è il segreto, più o meno. Però, minchia. Prima il fratello ha fatto con me, ha detto che gli piaceva il cazzo, lo sapevo già, ma lo dovevo dire ai miei genitori, mio padre ha risposto che non era felice, si era felice così, oppure lui, sapete? Lui risposta alla mamma, amore mi assomiglia, bello, tranquillo. Lo sa pure mamma che il cazzo ha il suo fascino, sta ridendo da due ore? Dove sta? Dove sta il segreto? Dove sta? Il segreto non è cambiato, i segreti sono o puttanate, oppure non sono segreti, perché questi non sono segreti, sono... Esplicazioni, sono quello che mi è successo nella vita, non è un segreto, è un social, è una cosa da social. Volete scrivere queste cose anche sui social? Non sono segreti queste cose, porca di una troia. Quindi, abbiamo capito come è il segreto, ora come ora, una merda, e non ci voglio mai più tornare. Arrivederci, dai, metterci per tutto, ci vediamo al prossimo video. Non tornerò mai più sul segreto, ma anche no.